7 sintomi da conoscere 7 sintomi da conoscere Se l'appendicite non viene curata in tempo, potrebbe trasformarsi in peritonite mettendo in pericolo la vita del paziente. La patologia potrebbe anche portare alla morte se non si prendono provvedimenti in tempo. Tutto ciò perché l'appendice potrebbe scoppiare disseminando l'infezione in altre parti del sistema digerente in pochissimo tempo. Per questo motivo, è importantissimo conoscerne i sintomi in quanto l'intervento chirurgico è determinante per evitare complicazioni. . In quest'articolo vi presenteremo i 7 sintomi più comuni di appendicite. Non sottovalutategli. Sintomi della appendicite 1. Dolore addominale acuto La manifestazione di un dolore addominale acuto è uno dei primi campanelli d'allarme. . Questo sintomo, che ha una sua evoluzione graduale, è il risultato dell'infiammazione e della pressione esercitata sull'organo. In generale, il dolore si produce nella parte inferiore destra dell'addome e la sua intensità avaria con le ore. . A volte il dolore si percepisce anche vicino l'ombelico o nella parte bassa della schiena. Questo sintomo si intensifica tossendo o muovendo le gambe e l'addome. . . . . . . . . Stitichezza e diarrea. . 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 I sintomi che si producono in seguito allo sviluppo di questa malattia tendono ad essere simili a quelli delle infezioni gastriche o intestinali. Per questo motivo, è piuttosto comune che, insieme al dolore, il paziente presenti febbre, freddo e tremori. È importantissimo rivolgersi al medico qualora la febbre dovesse aumentare o dovesse manifestarsi in modo costante. Consultate il medico anche nel caso in cui la temperatura dovesse cambiare in modo lieve, ma sempre accompagnata da dolori addominali. Leggete anche, 7 sintomi di malattie che non dovete ignorare nei vostri figli 6. Inappetenza Una persona che soffre di appendicite potrebbe presentare allimprovviso inappetenza, nonostante abbia sempre mangiato in modo regolare. L'infiammazione dell'appendice interferisce con le funzioni digestive e, in molti casi, inibisce la produzione degli ormoni che regolano la fame. Questo sintomo non deve essere sottovalutato in quanto, con il tempo, potrebbe portare a deficit nutrizionali. Dolore di rimbalzo Bisogna analizzare questo sintomo insieme agli altri in quanto potrebbe essere relazionato ad altre malattie. Dolore di rimbalzo Il dolore di rimbalzo è un sintomo che permette di capire più facilmente se si sta soffrendo di appendicite. Di solito viene percepito durante la visita medica a causa della pressione esercitata dal medico sulla parte inferiore destra dell'addome. Si tratta di un dolore acuto e pungente che varia d'intensità in base al grado di pressione esercitata. La diagnosi immediata permette una maggiore riuscita dei trattamenti per tenerla sotto controllo. Bisogna analizzare questo sintomo insieme.